Buongiorno, sono Cristian, Security Manager IS. Oggi vi presento le telecamere DOM da interno per serie basiche, modelli BU-MDV-03IR e BU-MDV-04IR. Le DOM BU-MDV-03IR e 04IR sono appunto per istrazione all'interno, sono dotate di LED all'infrarosso e di focali 4,9 mm per la versione BU-MDV-03IR e 2,8-12 mm per la versione BU-MDV-04IR. Entrambi i modelli hanno un'ottica a 650 linee TV. La dotazione standard prevede la DIMA che consente una facile furatura per l'applicazione delle viti senza danneggiare la telecamera. Il connettore ad innesto rapido per l'alimentazione della telecamera a 12V utilizzando un alimentatore stabilizzato. Il cacciavite che consente la regolazione della fuoco e dell'ottica. E i tasselli per il fissaggio della DOM. Per aprire la DOM è sufficiente eseguire questo movimento. Per la regolazione della focale e della messa a fuoco è sufficiente agire sulle due ghiere presenti all'interno della DOM utilizzando l'apposito giraviti. Una volta eseguita la regolazione si vanno a fissare le due viti. Per eseguire la regolazione della DOM sui tre assi di fissaggio è sufficiente rimuovere la collotta di protezione, allentare le due viti di fissaggio e regolare la DOM. Una volta individuata la posizione corretta si rimonta la calotta e si chiude il coperchio. Per maggiori informazioni sulla DOM modello BU-MDV03IR e BU-MDV04IR visitate il sito www.psonline.com o contattate il vostro rivenditore di fiducia. Arrivederci!